Buon pomeriggio cari amiche e cari amici e buona domenica. Innanzitutto voglio anch'io ricordare Luisito Suarez. Luisito Suarez era uno dei giocatori che più mi faceva arrabbiare. Era, rappresentava l'Inter col sangue caliente, ricordo delle parti delle, perché poi c'era la grazia di Corso, l'eleganza di Facchetti, la velocità di Mazzola, ma poi c'era il sangue caliente di un grande giocatore, ricordo i lanci di Suarez per la velocità di Jair o Dominghini o Mazzola. Quindi è stato un grande avversario in quei derby degli anni 60. Ne ricordo qualcuno in particolare, fu lui che segnò nel derby, che però permise al Milan di avere coscienza in quel campionato vinto 61-62 e segnò proprio lui cercando di radirizzare la partita dopo il gol di Pivatelli-Griffs e per fortuna Conti firmò il finale per il 3-1 del Milan. Nel girone di ritorno il Milan vinse il campionato, ma chi segna ancora Morbello, un attaccante che veniva dalla Spagna, e Suarez. La partita che però più mi fece soffrire è la stagione 64-65, era il 28 marzo 65. Il Milan aveva 7 punti di vantaggio, nonostante non ci fosse Altafini, Ciapina-Ferrario si chiamava Ciapina perché era un rapinatore dell'area di rigore. come Ciapina, era il soprannome di uno dei rapinatori della famosa banda che colpì in una famosa rapina di via Osoppo. Ciapina si chiamava il rapinatore e allora l'hanno chiamato Ciapina. E Milan era a 7 punti di vantaggio, poi perse, proprio nel giorno di ritorno, io c'era il 7 febbraio 65, San Siro pieno perché tornava Altafini, che se n'era andato in disaccordo con Gipoviani riguardo al contratto. Torna e io ricordo che disse, beh, abbiamo 7 punti, adesso torna Altafini, facile, disastro. Perdiamo a Vicenza, uno con Vicenza in casa, riusciamo a vincere a Torino, poi Milan si fermò, l'Inter ci raggiunse e poi ci fu quel derby del 28 marzo 65. Ricordo un fallo di Suarez su Benitez, io ero là che urlavo, volevo l'espulsione, quindi tanti sentimenti contrastanti, ma io ricordo anche che era dura nel 66-67, grande partita del Milan a otto reti di Vandè. Grande partita del Milan, facile vittoria dell'Inter, anzi no, nel giorno di ritorno nessuna grande parità, 4-0. C'era Barluzzi in porta, un disastro, segnò Corso, non ci fece vedere la palla. Poi l'ho conosciuto, l'ho conosciuto bene Suarez nelle trasmissioni televisive dove lavoravo anch'io e parlavamo del Milan, una persona molto cortese, una persona molto disponibile, una persona molto educata e l'ho apprezzato poi, lui mio nemico, tra virgolette, nei suoi campi di gioco, l'ho apprezzato, era grande amico di Giovanni Lodetti, chissà come ha sofferto Giovanni, è scomparso a 88 anni e Suarez cosa voleva dire? Il lancio di Suarez. Non era un regista alla Modric, era un regista già moderno, con un lancio meraviglioso che coglieva, io dicevo nelle telecronache quando c'erano giocatori del Milan, preciso come un pescatore di Mosca sulla Valdegua. Tac, che trovi la pozza giusta dove c'è la trota, lui andava là e metteva il pallone dove c'era Mazzola, Jair o Dominghini o Milani o Cappellini, li ricordo quei derby, con la scomparsa di Luis Suarez scompaiono un po' questi derby, perché per me Suarez era proprio il derby, la lotta, non c'erano tante bandiere, mi ricordo uno stadio non colorato come adesso, forse perché c'era la tv in bianconero, eravamo tutti un po' così e volevo omaggiare Luisito Suarez, scompare un grande giocatore, un grande avversario che mi ha fatto tante volte arrabbiare per la sua classe e per il suo sangue caliente, però signori, si perde un pezzo dell'epoca di quei derby degli anni 60. Volevo ricordarlo anch'io, perché li ho vissuti tanti, ero un ragazzo da liceo che andava a vedere il Milan e ricordo quei derby. Scusate, andiamo e vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube, attivare la campanella, scusate, l'emozione. Mi raccomando mettete i vostri like ai miei video, oltre 1000 e 2000 e non dimenticate mai di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10. Il titolo è forte oggi, ma quante stupidate. Ma riguardo a questa proprietà, che pure ovviamente è stata criticata per il licenziamento o la chiusura del rapporto con Paolo Maldini di Chemassara. È stata criticata intelligentemente, non da tutti, per la cessione di Tonali. Francamente mi sembrava impossibile farne a meno. È stata criticata, ma soprattutto è stata criticata, certamente per la questione Maldini è un dato di fatto, è stata criticata per quello che si ipotizzava. Tanto non ci danno i soldi, tanto non gli interessa il Milan, tanto Cardinale non è una lira, tanto qui, tanto là. E poi un'altra delle grandi stupidate, l'algoritmo. Senza magari sapere nemmeno cosa sia l'algoritmo. Perché si pensava che il Milan prendesse il giocatore XY Psiloski dalla non so da quale nazione o regione europea, perché l'algoritmo diceva di prendere XY Psiloski. No. E infatti siamo partiti con giocatori che Sportiello non serviva l'algoritmo, Loftuski serviva l'algoritmo, bastava guardare. Pulisic serviva l'algoritmo, bastava guardare. Poi può essere indovinato o no l'acquisto, ma non serviva l'algoritmo. Perché serviva l'algoritmo per sperare che diventi un grande giocatore Romero? No. Chiaro che l'algoritmo può essere quello che una volta Adriano Galliani, da anni fa, diceva prendo il panini e sfoglio il panini e quando vedo che un giocatore segna tanti gol, dico attenzione a questo giocatore, andiamo a considerarlo. Adesso non si sfoglia il panini o gli almanacchi, ma ci sono statistiche, modi di arrivare prima per capire gli infortuni del giocatore. Tutto molto programmato. Ma l'algoritmo per prendere Musa, per prendere Ciukvueze, per prendere Reinders o Reinders, devo capire, io la dico all'inglese e non vorrei che all'olondese fosse Reinders e quindi capiamo. Per prendere Morata o Taremi o Scamacca. Serve l'algoritmo. Serve andarli a vedere, averli già visti, considerare, guardare, perché l'algoritmo non va a vedere il costo ingaggio, l'algoritmo va a vedere altre cose. Quindi quando io vi ho sempre detto, prendendomi le critiche, tu figlio del padrone, eccetera. Vi ho solo sempre detto, quando parlano così di algoritmi, mi sono anche rivisto la seconda volta a Moneyball con Brad Pitt, film, già a me lo sport americano non lo seguo molto, non ce l'ho molto dentro. E niente, sono andati a vedere questi giocatori, c'è questo ragazzo un po' un esperto che andava a vedere le statistiche eccetera, ma il Moneyball non l'ha mai applicato. O almeno lo applicherà, fino adesso non l'ha mai applicato. Chi diceva che il Milan andava a prendere i giocatori con l'algoritmo ha detto una stupidata. Magari nella formazione primavera può darsi che vanno a cercare, visto che non ci sono degli elementi così probanti, così chiari, possono andarlo a vedere. Ma per il resto, vi ho detto, state calmi, guardiamo, vediamo cosa fanno. Il primo di agosto si trarranno le conclusioni, vediamo chi prenderanno. Prenderanno giocatori sconosciuti con l'algoritmo. Fino adesso non l'hanno fatto. Non so se l'hanno fatto nel Toulouse, che è un'altra del satellite di Redbird e vediamo se lo faranno poi in futuro. Parliamo concretamente. Pulisic domani il raduno. Domani è il giorno che vedremo per la prima volta Franco Varesi affiancare Giorgio Furlani anche a livello di immagine. Poi non so come si sviluppirà questa questione. Domani Pulisic non so se ci sarà, ma mi è importante che ci sia poi per le prossime partite. Poi, importante ancora, capire se Renders verrà la settimana prossima. Per quello che riguarda gli altri, devo capire, oggi ho letto colleghi che dicono che Musa e il Milan lo vuole. Devo verificare se Musa è sempre una pista calda o si sia raffreddata, mi interessa, e poi capire un po' il giochetto con Morata. Mi dicono a quelle cifre è impossibile. Però io Morata, non dico che ci credo ancora perché saremo in Morata e poi decideranno i dirigenti. Però aspetterei a metterlo da parte. Tutto qua. Cucuuez è da vedere, Musa è da vedere e lì davanti è da vedere. Incominciamo a prendere a Renders e intanto abbiamo quasi completato il centrocampo. Poi vedremo Musa e poi vedremo le punte. Sulle punte ci sarà da divertirsi perché poi sono quelli. Perché giustamente, poi entrerò, un collega ha detto questo. Che il Milan fino adesso, bello questo concetto, poi andremo ad approfondirlo, ha preso Pulisic perché è andato via Diaz, Loftus-Cic Tonali, poi eventualmente prenderà Renders vista l'assenza di Benassert e quindi va a tamponare delle cose dell'anno scorso. E adesso inizia il rafforzamento. Cioè il giocatore forte a centrocampo, e può essere Loftus-Cic Musa, l'attaccante, l'attaccante, vediamo quale, e la fascia destra. Questi sono i tre da rafforzamento e questo è proprio vero. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale di Carlo Pelle Gatti, attivate la campanella e ancora un mesto addio a Luisito Suarez. Quanto mi ha fatto arrabbiare. Ma che derby meravigliosi quelli degli anni 60 perché erano i miei derby da teenagers e quindi hanno un fascino particolare. Ciao.